semplicità complessa ma perché? ci stanno certe cose che sono veramente fuori di testa inizio tagliando un cipollotto pulisco il carciofo sottile sottile scommetto che voi le fave le mangiate senza la boccia dilettanti giù le fave per 5 minuti fave in acqua fredda il guanciale lo taglio a bastoncini guanciale in padella fredda appena esce il grasso lo inizio a togliere quando è bello croccantino lo mettiamo su carta assorbente cipollotto sisellini gelo solo per voi ho colto gli asparagi selvatici asparagi in padella carciofi che le fave sbusciate con un po' di acqua e quando è quasi pronta unisco la lattuga romana un po' di mentuccia e giù la pasta pecorino quello con la goccia nera di spadella guanciale croccante versione gourmet versione per me che vuoi